Sono Saverio del Sante da Parma, ho un'azienda zootecnica a proprio i confini della città, mungo 150 vacche, coltivo circa 133 di terreno, fondamentalmente a foraggiere, erba medica, e per la restante parte cereali e mais. In casa d'ificio lavoriamo circa 22.000 quintali di latte all'anno, tra il latte della mia stalla, quindi di Frisona, e il latte di Sola Bruna. Tra il latte di Sola Bruna e la Frisona produciamo 5.000 forme di parmigiano reggiano di OP. La nostra azienda segue l'intero ciclo produttivo, quindi partiamo dalle foraggiere, dai campi, passando dalla stalla e arrivando al case d'ificio. Questo ci è molto d'aiuto, in quanto siamo in grado di controllare l'intero processo produttivo e di ottimizzare, oltre che procedure, anche i costi. Negli ultimi anni abbiamo investito parecchio sulle vendite dirette, oltre che avere un ritorno economico più significativo, ci sono state molto utili per cercare di contrastare le tensioni sui mercati e gli squilibri finanziari. Nel nostro case d'ificio c'è spazio anche per prodotti di nicchia. Il parmigiano reggiano di Sola Bruna, che è circa lo 0,5% dell'intera produzione di parmigiano reggiano di OP. Il parmigiano reggiano da latte contenente betacaseina A2-A2 e il parmigiano reggiano prodotto con latte di bovine alimentate con erba verde. Dal 2021 abbiamo completamente rinnovato il nostro negozio aziendale, costruendo anche una sala degustazione. Questo ci ha permesso di ampliare l'offerta turistica, accogliendo ogni anno migliaia di persone, di turisti, da ogni parte del mondo. L'accoglienza turistica per noi è un aspetto molto importante nel nostro business, in quanto negli anni ci ha dato la possibilità di crescere, anche se le difficoltà non sono poche. Infatti bisogna avere personale formato, dedicare tempo a questa attività, che viene sottratto chiaramente ad altre importanti attività aziendali, ma al tempo stesso è una fonte di riconoscimento per il nostro lavoro, oltre che di marketing. Un'altra attività molto importante per la nostra azienda è il commercio online, in quanto ci dà la possibilità di raggiungere clienti in tutto il mondo, essere aperti ogni giorno a ogni ora, ed è un'attività sicuramente molto remunerativa. Grazie a tutti.